Exo Rattics, oggi siamo qua per presentarvi uno degli ultimi arrivi. Si tratta di una bellissima Mercedes GLA 180, motorizzazione 1.622 cavalli allestimento Sport, immatricolata a febbraio 2017 con solamente 71.000 km. Partendo dalla parte anteriore possiamo vedere tutta quanto la fanaleria con i sensori di parcheggio anteriori, pneumatico estivo montato sul cerchio da 18, e che possiamo vedere è una colorazione grigio metallizzato. Parlando di lunghezza si tratta di una autovettura lunga, 4,42 m, larga 1,80 m e alta 1,49 m. Passando nel lato posteriore possiamo vedere i sensori di parcheggio come assistenza al parcheggio e abbiamo poi il bagagliaio che presenta una capienza di 421 litri e abbattibili fino a 836 m. Passando nel lato interno della bilattica possiamo vedere i testi che sono in tessuto, con le rifiniture parziali in pelle e le attaccature Isofix. Vedre elettrici sia anteriori che posteriori. Passando all'interno della parte anteriore possiamo vedere il volante completamente in pelle con tutti i comandi radio e bluetooth, il limitatore e il cruise control e abbiamo un rapporto 6 marce più retro essendo una motorizzazione 122 cavalli. E tutto quanto il sistema dell'infoteme per tutti quanti i comandi di sicurezza, comandi radio e bluetooth. Questa autovettura ha già superato i 50 controlli dei nostri automonti expert ed è disponibile online sul nostro sito ratix.com. Ciao! Ciao!